ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale bentornati sul canale di italy gamer 69 eccoci con un'altra puntata di star wars outlaws allora ho fatto delle missioni secondarie ho sbaliggiato il cavo dell'alba cremisi che si trovava in questo punto della mappa dopo aver trovato i tre o quattro tesserini che erano necessari per potervi accedere è stato abbastanza facile nessun problema e poi ho fatto qualche qualche altra missione secondaria sempre qua sul kijimi city e adesso dobbiamo andare per fare le le missioni principali diciamo quindi abbiamo esperto di armi che è quella legata al pianeta kijimi dove siamo e abbiamo delle altre missioni diciamo così specialista sindacato e secondaria che so che possiamo farle che sono tutte e tre se non ricordo male nel tutte e due nell'orbita di kijimi e una in toshara per cui io penso che per tornare indietro dobbiamo passare per forza di qua comunque vediamo un po io andrei per la mercenaria da quando l'impero ha sequestrato il suo arsenal ex mercenaria roster tracer si è ritirata con il giusto incoraggiamento potrebbe certamente insegnare a che qualcosa di utile sulle armi pesante questa aveva incontrata un po di tempo fa dobbiamo andare a recuperare le armi che gli avevano sequestrato e sono in un deposito in orbita da qualche parte insomma di ragazzi come di consueto prima di cominciare rinnovo l'invito a iscrivervi al canale a lasciare anche un mi piace al video sono due gesti gratuiti sono dei semplici click non c'è nessun costo nessun impegno da parte vostra ma per me sono importanti mi supportate il canale supportare anche nella crescita del canale allora vediamo un attimo da che parte devo andare sto già sbagliando strada tanto per cambiare perché è lì là io sono proprio una frana con con l'orientamento vediamo se ci fanno uscire si è qua comunque guarda dove siamo arrivati non vedo perché non debbano c'è della roba che mi aspetta ma dov'è sta roba che mi aspetta questi sono dei trafficanti che abbiamo contratto che abbiamo fatto in una secondaria tanca questi sono tutti i vari contratti che abbiamo poi non vedo altro ma possiamo migliorare qualcosa se l'accidenti si toglie dai mezzo non è male come configurazione standard per modulo ad alta potenza si carica prima di emettere un colpo energetico che esploda l'impatto e fai non lo metti abbiamo anche qualche altra cosa plasma possiamo aggiornarlo e basta credo bene non è I've received a message from the heir to the Ashiga Throne. This is Crisp. If you truly want, Ankh, meet me at the Kajini City Cantina. We have much to speak about. Sounds like Crisp wants to make a deal. Maybe. But it's rare for the Ashiga to defy their queen. We have also received some job offers from the Ashiga Clan. One of them comes from Danka, who has left you a message here on the ship. All right. Might be worth checking out. Credo che sia nel pad. Ma non c'è il pad. Dov'è? Forse è qua. Let's hear what she wants. Okay. Got another job for you. I brokered a sale between the Pikes and Ashiga for an exotic bi-valve. Err, a clam. But now, I hear the Pikes are gonna sell it to Crimson Dawn instead. Problem is, I don't get paid unless the Ashiga get the product. Go break up the deal. And bring that scary droid with you. I'm sure seeing him will help. If you're in, I'll send you where the Pikes and Crimson Dawn are gonna meet. Should we leave now then? No, I don't need your help. I'll be fine. You stay here and just... Tell Danka I'm in. Ok, allora volevo... Però io prima volevo fare la missione per il... Siamo qua. Attivate 3700 missioni. Allora mercenaria. Ok. Era. Ok. Dobbiamo andare nell'orbita per il pianeta. Dobbiamo andare di là. Se non capita niente ci vediamo magari quando arriva, ragazzi. Let's go after it. Was that a comp signal? Yes, but not a pipe one. It's a Crimson Dawn frequency. We'll see. We'll see. Come, take a moment. Let's go through. We'll see. We'll see. Questa possiamo prendere? Vediamo un po', scusa Vediamo che non c'è attacca non non riesco a stradili Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove devo andare io? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamata. Grazie a tutti. Ah, troppo lunga... Ah, scusate a l'attivo. Dobbiamo farlo il salto, sì. Inputando hyperdrive coordinates. Let's go. No. 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 I like this guy. I cannot confirm the validity of that story. He's a legend with a blaster, N.D., and we need him if we want any chance of getting out of Sphero's vault alive. Haas was recently arrested by a small-time sheriff for looting vapor raiders. Not very legendary. With his rep, he probably planned it. Possible. What, you don't trust Jalen's people? I don't trust anyone. Ah, not even me? That's fair. Allora, ci serve la moto qua. Sennò, dove andiamo, abititi? Hang on tight. Got a deal. I'm all set up. You close? Almost there. Good. Because I got a nice little surprise ready for the Imps. Are you sure? This is the best way to become proficient with heavy weaponry. Hey, you're the one who told me to look for her. Yes. I've done many irresponsible things lately. Albert. What's the plan? We're blowing up the convoy. You're sure you don't want to just rob it? It's cleaner. Your pet there. What is he? Oh, Nix? He's a Mercall. Kind of rare. Honestly, I don't even know what planet he's from. Mine was a scattlebeast. Common as dirt. He died when the Empire shot down my ship. We're blowing up that convoy. You ever fired a Z6 before? We, uh, didn't have a lot of those back on, uh, Kento. It's not that hard. Lift with the knees, offhand on top, dig in, and start shooting. Try it out. Oh, and watch the motor. It spins like a wild-carded Dillo. Eh, do a sparrow. That's gonna punch. Hey, you're a natural. I thought the M's took all your weapons. You're still pretty well armed. What, these? Just a few plasma crackers I had stashed away. Never thought I'd have to use them. All right. Now we wait. Ma la famo alla buria, ragazzi, eh? You hear that? Convoy's coming. Get in position. Once they come through, I'll blow the mines. Then we start blasting them. Don't get out of the open. Use the shields on those heavy weapons. Look, one spotted, Nick. Ha! That'll get the fight. I'll make you spread and run. Yeah, man! Hey, go over! Get Mater out! Thanks, we got him! Let's check on the weapons. Come get me, scum! I will die. I will die. Reinforcement's coming. I see him. Open fire! Are you kidding? Take oil out! Fire! 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 Sono finiti Come and get me, scum! Let's go No! You want some more? No You can't go I want some more I'll wait I'm so sure You have to wait Let's see if bruce I got her Stacks I'm so sure I'll do it I'll do this Let's go Alla prossima Allora questa l'abbiamo fatta Questa l'abbiamo sblocato, vabbè l'abilità di uno Mi sarebbe piaciuto trasportarla anche Vabbè comunque dai, ci sta anche questo Bene, solo che mi da Allora adesso abbiamo, cosa abbiamo? Allora l'orbita di Kijimi, il passeggero Io dovrei tornare alla nave Se mi ricordo dov'è Qua Perché non c'è il viaggio rapido? Porca miseria Io è stato un piacere, me ne vado Mi va il viaggio rapido Vediamo se adesso me lo da Allora Tanto poi ci ritorneremo per la missione principale No boh, cioè le faccio una per una Quindi Inutile accavallare altre missioni Su quelle che dobbiamo già fare Qui c'è da cercare la seconda persona Che faremo poi dopo Membro dell'equipaggio Non so come chiamarlo Quindi dobbiamo poi assaltare Sempre in mezzo lì andiamo Inutile Vabbè Andiamo a passarci un po' di piano Non si può Aspettate C'è un tesoro Su sta nave abbandonata Eh, eh, scusate ma Tesoro è tesoro Che fai? Lo lasci? Non è questo Non è questo Perché non Ok Quindi dovevo avvicinarci Ci Ma mi dà Sì, mi dà una cassa Ma non ho detto che ci sia nulla Andiamo, andiamo Poi magari ci guarderemo See that trail of debris I think someone got to that ship before us Dart won't like that Un'altra La 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 Sì, sì, sì. Come si dice? Qualquadra non cosa? E' già vero, sì E ma come faccio a prenderlo? Poi là Sì Sì We can't shoot them, but we can't let them leave the system either Stay on them and look for an opening Nothing else we can do I can almost make it up They jumped away with the pod We're clear Dov'è andato? Quindi dobbiamo... scusate Dobbiamo cambiare di nuovo il pianeta È andato via Hyperdrive, coming online Let's jump So, are you and Jalen, like, friends? Friends? Ah, I mean, he's your boss, right? Jalen provided me this restraining quote It stops me from relying on my original purpose Oh, so you, like, own them, right? There is no reason to have this conversation So I will not be continuing it Great Wow It's so... green That's right You've never been somewhere this burdened You have? I've been to every biome you can imagine And a few you can't Was that another old transmission? Yes, and from the same source We still can't decode it But if you find a couple more I can't triangulate the origin point Come here Well, there's a treasure I don't know If you find a treasure Ah una località che abbiamo coperto E niente di che Vabbè No C'è allora C'è qualcosa ma va bene Lo guardiamo dopo Tanto ce l'ha segnato Opera station You ever been? No But it has a reputation as a pirate hangout Watch your credits Eh ma come si entra See you later Eh qua possiamo Sì abbiamo qualche potenziamento Che male non fa No So long Hey Guy in the pod You in there? Guy in the pod? I'll have you know Why Still on the station I think You can get her keycard Uh I'll try Hang tight Il passeggero Il passeggero Vediamo qua no Traffica contratti extramonde Traffica contratti extramonde Tanto rani Tanto rani Tanto rani sono blu Sono tutto blu Tanto rani sono blu Let's just say Your merchandise Is safe and sound With my associate Back on the surface 14 kg Just like you are Not our pirate Gotta keep looking Esta sembra blue Perché no volevo scambiare Come on Soren You can do better than that We're in order to go for your games Stop him But no Da qua raga Quindi Me lo da qua però I figured you'd drop out a chance To get revenge on Prince and God You want to pay Now watch for a single spy No He infiltrated your best smuggling group Stored your format list And my favorite part Slagged your ship On the way out Don't want to know How you did it Dog agents never give up Their secrets This one's soft The soft ones Are the most struggling That's our pirate Get her key next Next There Good job buddy I bet the pipes would pay For that list Jad stole And D I got the key card Get the engine running Never turn the moth And Let's Liberare il tizio Adesso Sì Dica Jad Jad My gallant rescuer Tell me Did my boyfriend Send you? Uh Are you talking about That crimson dawn guy Who kind of hates everyone? Ah He really is a warrior But he could have spared you The trouble There's not a cage In the galaxy That can hold Of the illustrious Jad Flatsom Well you look pretty held Right now And yet the door Is wide open Shall we One second One second That snitch list you stole from the pikes I want it I want it You're going to spoil our rapport with a double cross? The job was to rescue you You're rescued In my world That kind of tediously clever wordplay gets you shot Yeah Well I'm kind of the one holding the blaster Fair enough Take your list We'll find others Oh And do visit Dart and I On Kijimi If you ever feel like Working with a real syndicate Let's get out of here And call the pikes Those pirates Won't be happy When they realize What we did So We can go We can go We can go If you want We can move We can move We can move We can move There are some items waiting for you Okay There were my car I have to be You have to be You have to be You have to be Sì, hai scelto il primo? Hai un'idea che hai scelto? Uh, protocolle o qualcosa? Sono il Dredd Pirate Crocyon Y, e i'm going to hunt you to the ends of the galaxy. Tu senti? Tu è morto! Beh, non peter angry. Un'armicina, ora! Un'armicina, ora! Un'armicina, ora! Right on target. Grazie a tutti. Non lo becco mai con sto missile. Grazie a tutti. 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 Oh... 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 bene ce l'abbiamo fatta qualche difficoltà l'abbiamo fatta cosa abbiamo da fare Toshara o andiamo su Toshara e facciamo ancora queste due qua potrebbe essere un'idea vediamo ok vabbè ragazzi facciamo che ci salutiamo qua per questa per questa puntata la miseria qua oh no che con quale violenza ma c'è buonanotte da ci vostra ma che è la miseria la miseria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prima di salutarci, come di consueto, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a lasciare anche un mi piace al video, sono gesti gratuiti da parte vostra, ma per me importanti, mi supportate nella crescita del canale. È un semplice click ragazzi, non c'è nessun costo, nessun impegno. Detto questo, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo prossimamente. Ciao.